La Matrix europea, la verità dietro i giochi di potere, con Francesco Amodeo. Un caro saluto agli amici di Radio Radio da Francesco Amodeo. In queste ore, in tanti, sul blog del sito francescomodeo.it mi pongono la stessa domanda. Perché Papa Francesco si sta esponendo così tanto sulla questione dei vaccini? Invece di fare appello alla sacrosanta libertà di scelta, il famoso libero arbitrio. Bene, una ipotesi potrebbe essere il fatto che proprio Papa Francesco abbia recentemente scelto di aderire a nome del Vaticano e quindi di rendersi testimonial di una organizzazione internazionale che si chiama Council for Inclusive Capitalism. Organizzazione che vede, tra gli altri promotori, i magnati delle dinastie Rockefeller e Rothschild, i grandi potentati bancari e finanziari, le grandi multinazionali, ufficialmente insieme per creare quella che sul sito definiscono una collaborazione storica di amministratori delegati e leader globali che lavorano con la guida morale di Papa Francesco per un capitalismo inclusivo. Ma sentir parlare l'ereditiera della dinastia Rothschild, fotografata sul sito proprio a fianco a Papa Francesco, bene, sentirle parlare di inclusione e di equa distribuzione della ricchezza a loro che come dinastia da soli hanno una ricchezza superiore a quella del restante 70% della popolazione globale. Bene, è abbastanza surreale come cosa. Di certo c'è, e potete verificarlo incrociando i nomi dei consigli di amministrazione, è che i personaggi e le multinazionali che fanno parte di questo Council for Inclusive Capitalism sono gli stessi che siedono nei consigli di amministrazione delle grandi multinazionali farmaceutiche che stanno proponendo i vaccini. Qualcuna, tipo la Johnson & Johnson, è addirittura apertamente pubblicizzata sul sito come partner. Ora, io non voglio credere che sia questo uno dei motivi per cui il Papa stia spingendo così tanto i vaccini invece di battersi per far valere il diritto alla libertà di scelta per tutti. Ma è anche vero che io non mi sarei mai aspettato di vedere il Papa in una organizzazione di oligarchi del genere. Eppure è ufficiale, io non mi sto inventando nulla. Approfondimenti sul sito francescomodeo.it Un caro saluto agli amici di Radio Radio. La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo.